Buongiorno ragazzi, dobbiamo stabilire, senza usare la calcolatrice, quale di questi numeri è il più piccolo. Abbiamo a che fare con un logaritmo in base 10. Prima di iniziare ad entrare nel vivo, ricordiamo alcune delle formule, delle proprietà dei logaritmi. Precisamente, banalmente, il logaritmo in base a di 1 fa sempre 0, il logaritmo in base a di a da sempre 1 e c'è un'altra proprietà che qui useremo, il logaritmo in base a di un argomento che ha un suo esponente c può essere riscritto portando c fuori dal logaritmo che moltiplica il logaritmo in base a di b. Ora, per comodità, incominciamo a porre x, il logaritmo in base 10 di pi greco. Se vedete, nelle altre risposte compare comunque questa parte. Notiamo, inoltre, che pi greco è un numero compreso tra 1 e 10. Quindi, se io applico il logaritmo a tutti i termini di questa catena di disuguaglianze, ottengo che il logaritmo in base 10 di 1 è minore del logaritmo in base 10 di pi greco che è minore del logaritmo in base 10 di 10. Cioè, che il logaritmo in base 10 di pi greco si trova compreso tra 0 e 1. Abbiamo quindi approssimato il valore di questo logaritmo in base 10 di pi greco dicendo, intanto, che è un numero minore di 1. Teniamolo lì e iniziamo a prendere un altro numero delle tre risposte che rimangono. Analizziamo, per esempio, il numero della terza risposta. 1 fratto il logaritmo in base 10 di pi greco elevato alla terza. Usando la notazione x possiamo riscrivere questo come 1 fratto x tutto alla terza. Noi abbiamo scoperto che il nostro x è minore di 1, quindi 1 su x rimane maggiore di 1. Questo vuol dire che il nostro 1 su x alla terza, cioè la nostra terza risposta, è maggiore di 1. Quindi, se la risposta c è maggiore di 1, significa che a, la nostra risposta a, è minore della risposta c. Quindi questo ci permette di escludere c come risposta esatta. Andiamo a cancellarla. E andiamo a prendere ora il quarto numero. Analizziamo, quindi, 1 fratto il logaritmo in base 10 della radice di x. Consideriamo il denominatore. Per le proprietà del logaritmo ripetute prima, possiamo riscriverlo in questo modo. Il logaritmo in base 10 della radice di pi greco è il logaritmo in base 10 di pi greco elevato all'un mezzo. Questo un mezzo corrisponde al nostro c, che può essere portato davanti al logaritmo. A questo punto possiamo rimettere tutto all'interno della frazione e poter dare un valore al nostro quarto numero. Il 2 passa numeratore e sotto ci ritroviamo la risposta a, cioè il nostro x. Quindi significa che 2 fratto x, essendo x un numero più piccolo di 1, rimane un numero sicuramente maggiore di 2. La nostra quarta risposta, il nostro numero D, può essere scritto come 2 su x, cioè un numero maggiore di 2. Quindi A è più piccolo di D e ancora una volta questo ci permette di escludere la quarta risposta tra le papabili risposte esatte. Cancelliamo anche la risposta D. Ci rimane da valutare e da confrontare tra di loro la A, che ormai conosciamo, con il secondo numero, quello della risposta B. Quindi analizziamo adesso quest'altro numero. Il numero da guardare è esattamente la radice quadrata del logaritmo in base 10 di pi greco elevato al quadrato. Posso applicare anche qui la terza proprietà, porto il 2 davanti al logaritmo e mi ritrovo ad avere la radice di 2 che moltiplica x. Ma essendo x un numero sicuramente minore di 1, la radice di 2x è sicuramente maggiore della radice di x per x, che non è altro che x. Stiamo parlando comunque di un numero positivo. Quindi significa che il nostro numero B è maggiore di un numero rappresentato dalla risposta A. E questo esclude anche la risposta B. Direi che la risposta A è quella esatta. Spero che sia tutto chiaro. Ci vediamo domani con il prossimo quesito. C'è la risposta A. Grazie.